È la prima porta di accesso per coloro che vorranno usufruire del nostro territorio ma soprattutto apprezzarne le bellezze. Alle porte del Parco Nazionale dei Monti Sibillini sono iniziati i lavori per un hub che promette di fare la differenza in termini economici per le attività dell'area che hanno resistito alle difficoltà degli ultimi tempi, per il turismo e per famiglie, studenti e bambini. Un nodo intermodale che metterà sistema 17 comuni per un progetto pilota che ha come committente l'Unione Montana Marca di Camerino. Il taglio della nastro sarà verso il periodo estivo. L'investimento è di oltre 185 mila euro grazie ai fondi SNAI, strategia nazionale delle aree interne. Quello di San Ginesio è il primo di tre hub previsti. Un'area pilota che ha voluto creare un interscambio tra il percorso veloce e il percorso lento. Questo di San Ginesio è il primo hub che riusciamo a far partire, poi ci sarà quello di Muccia e quello di Monte San Martino, proprio a significare la dinamicità di questo territorio. Un luogo di interscambio in un'area verde attrezzata di 2000 metri quadrati. Qui sarà il luogo dove convergeranno anche i ragazzi delle scuole superiori, quindi l'hub di scambio, la possibilità per coloro che nel periodo estivo desiderano venire a fare una passeggiata in mountain bike, quindi ci saranno le rastrelliere, i pullman dotati di tutti i servizi a bordo, il wifi per i ragazzi che vanno a scuola. Una strategia di grande impatto che di fatto pone i primi passi per la ripartenza delle aree interne. L'hub di San Ginesio, paese che è stato decretato il miglior villaggio turistico d'Italia secondo l'Organizzazione Mondiale per il Turismo, sta sorgendo in un'area vicino alla zona industriale Pian di Pieca, che negli ultimi tempi è stato oggetto di interventi mirati del comune, come marciapiedi e piste ciclabili. Questo credo sia il coronamento di un po' di un progetto di riqualificazione di un'area che per San Ginesio è importantissima. Qui siamo all'ingresso del Parco dei Monti Simillini, è una zona che è nevralgica. Obiettivo? Aumentare e incentivare il turismo creando valore per il territorio. Fare in modo che le persone che vivono e che resistono in questi territori abbiano sempre più opportunità. Da qui deve partire il meglio perché si sappia che chi viene a visitare questi luoghi avrà tantissimo. Noi siamo bravi nel momento in cui le persone vengono. Dobbiamo essere bravi però anche a fare sì che le persone che non ci conoscono sappiano di noi e vengano anche per curiosità. Poi una volta che sono dalle nostre parti si innamorano e resteranno e torneranno.